Sabato prossimo gli studenti degli istituti superiori di Giarre Riposto organizzano un corteo di protesta nelle doppie vesti di studenti e di cittadini. Il corteo partirà alle 9.30 dalla piazza Duomo di Giarre e percorrendo Corso Italia arriverà in piazza San Pietro a Riposto. Vari motivi della protesta studentesca a partire dai problemi che derivano dall'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per legge, ma che i ragazzi non vedono come opportunità quanto come uno sfruttamento del loro lavoro senza compenso e senza tutele. Poi c'è il problema dell'edilizia scolastica. La manutenzione degli edifici scolastici superiori compete all'ex provincia, ora città metropolitana, ma con la riforma a metà e i tagli delle risorse si sono notevolmente allungati i tempi delle manutenzioni. Di conseguenza le scuole dispongono di un minor numero di locali e questo limita le attività didattiche. Altri motivi di protesta sono i carenti servizi ai disabili, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza igienico personale. L'ex provincia infatti nomina un solo assistente per due o più ragazzi disabili e le famiglie di questi ragazzi sono costrette a spendere ogni anno migliaia di euro in spese legali per ottenere un assistente per il proprio figlio. A non andare giù ai ragazzi anche il sistema delle prove invalsi, che rischia di marcare ancora di più il confine tra le scuole di serie A e quelle di serie B, secondo quanto riferiscono gli studenti. I ragazzi infine protestano anche per l'ospedale di Giarra, il diritto alla salute e per un'adeguata assistenza sanitaria in questo territorio che in migliaia da tutti i comuni vicini frequentano ogni giorno.